Oggi inauguriamo un nuovo format con Monica, che è stata la prima a essere così coraggiosa da farsi avanti e inviare le proprie immagini per avere una critica costruttiva dal sottoscritto. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e come ormai sapete sono un fotografo che si diletta a fare video su YouTube. Oggi inauguriamo un nuovo format. Vi avevo chiesto negli shorts, nelle storie di YouTube, se vi sarebbe piaciuto un format in cui io vado a esaminare delle fotografie che voi da casa avete realizzato e che mi mandate e vado quindi a darvi un feedback sul lavoro che avete svolto. Ci tengo a fare una doverosa precisazione prima di cominciare. Fondamentalmente io non sono nessuno per giudicare le vostre foto, quindi quello che io sto dando non è un giudizio, ma è solamente un parere. Io non posso dirvi se le vostre foto sono belle o sono brutte, perché lì entrano in gioco dei parametri soggettivi. Quello che io posso dirvi è se in base alla mia esperienza e in base alla mia conoscenza del settore per cui avete operato, quindi può essere fotografia macro di gioielli, fotografia di interni, fotografia di ritratto, in base alla mia esperienza vi posso dire se secondo me avete fatto tutto quello che era possibile fare oppure se avete tralasciato qualcosa. Vi posso dire se avete lavorato esattamente come avrei lavorato io oppure se io avrei fatto qualcosa di diverso. È proprio questo che faremo nel corso di questo video e di altri video successivi se qualcun altro di voi avrà voglia di sottopormi il suo materiale. Al momento in particolare io avevo lanciato la proposta di esaminare dei portfolio per quanto riguarda il microstock e quindi di darvi una mia lettura sulle immagini che state creando per cercare di capire insieme se hanno mercato, se possono vendere oppure se sono immagini da scartare per cercare qualche altro topic. In realtà le foto che Monica mi ha sottoposto sono di tutt'altro tipo, ovvero sono fotografie di interni che ha realizzato per un cliente. Ora noi andremo a vedere insieme queste fotografie che vi preannuncio secondo me non sono niente male e andrò a dirvi di volta in volta se secondo me c'era qualcosa che poteva essere fatto diversamente. Prima di cominciare però vi ricordo che molti di voi non sono ancora iscritti al canale. Io guardo le statistiche e vedo che la maggior parte delle persone che vedono questi contenuti poi effettivamente non sono iscritte al canale. Amici è un vero peccato innanzitutto per voi perché rischiate di perdervi dei contenuti che magari vi interessano. In secondo luogo l'iscrizione è completamente gratis e a me dareste una grossa mano. Il bottone è proprio qui sotto e se attivate anche la campanella siete assolutamente sicuri di non perdervi nessun contenuto. Molto bene eccoci qui all'interno del mio computer. Come potete vedere Monica ha fatto una cosa che secondo me è molto smart. Mi ha già sorpreso perché mi ha mandato un link di Amazon Photos che è un metodo molto smart per condividere le immagini. Infatti consente di salvarle fondamentalmente a piena risoluzione con uno stoccaggio illimitato almeno a detta di Amazon finché non cambiano idea e quindi qui possiamo vederci le immagini con una buona risoluzione e possiamo andare a fare insieme un'analisi del lavoro che lei ha svolto. Partiamo da questa prima foto. Allora io qui come già detto vado a dirvi solamente le cose che io avrei fatto in maniera diversa quindi non sto giudicando il suo lavoro ma vi sto soltanto dicendo che cosa io avrei fatto in maniera diversa. Cominciamo col dire che siamo in un ambiente molto rustico quindi la maggior parte delle cose ci sta che siano anche un po' ruspanti. Infatti qui abbiamo un mobile che a me per esempio non piace. Questo sembrerebbe essere un tavolo di bambù. In realtà se lo andiamo a togliere è anche peggio perché qui dietro abbiamo una scaletta con qualcosa di coperto e io immagino che qui l'ambiente sia finito. Quindi credo veramente che la scelta di lasciarlo incluso in questo modo sia un po' obbligata e inoltre che sia anche la cosa giusta da fare perché altrimenti andiamo a scoprire una parte che è ancora meno bella. Quindi da questo punto di vista non è nemmeno una critica è semplicemente una constatazione. Secondo me qui è stato fatto tutto quello che si poteva fare. Dall'altra parte abbiamo una tavola da stiro che ovviamente non è particolarmente bella. Io mi rendo conto che sarà stata inclusa per far capire che questo è immagino un seminterrato con zona lavanderia. Qui c'è un lavabo vecchio di pietra che si riesce a vedere con il suo rubinetto. Qui abbiamo lavatrice asciugatrice. Una cosa che non mi fa impazzire è questo riflesso dentro in questa cornice. Quindi qui una cosa che si sarebbe potuta fare è di fare più scatti. Si sarebbe potuto fare uno scatto che è quello che vediamo e poi si sarebbe potuto spegnere questa che immagino essere la luce principale dell'ambiente. Si sarebbe potuto spegnerla e fare un secondo scatto sparando il flash sul soffitto in maniera tale da avere uno scatto di questa cornice pulita e senza riflessi da incollare poi dentro in Photoshop. Questa è una cosa che si sarebbe potuta fare. Allo stesso tempo si sarebbe magari potuta mettere una copertura un po' più carina su quest'asse da stiro perché non è molto bella da vedere però mi rendo conto che quando si è di fretta e si fa uno shooting magari non ci si è portati dietro le coperture quindi certe volte i materiali mancano. Tutto sommato questo scatto va bene così anche perché suppongo che questa fosse una condizione dove non c'era proprio il tempo di fare tutto quanto a modino. Io immagino che quando si realizzano shooting di questo tipo probabilmente il cliente non stia pagando tantissimo perché li faccio anch'io shooting di questo tipo non ci pagano tantissimo per fotografare interni in questo tipo di ambiente e quindi non possiamo metterci tutto il giorno a farli. Una cosa su cui mi devo soffermare però è questa parte che mi sembra essere una parte di muro lievemente fuori fuoco così come anche l'inizio della tavola da stiro mi sembra lievemente fuori fuoco per cui mi domando con che diaframma sia stata scattata questa immagine. L'immagine è pulita quindi credo che sia stata scattata su tre piede credo perché è così pulita e vista l'illuminazione è così pulita da farmi pensare che sia stata usata comunque un tempo di posa abbastanza lungo. Io forse avrei provato a chiudere il diaframma un pelino di più per avere a fuoco anche questa parte di muro e questa parte di tavola però detto questo queste sono solo cose che io avrei cercato di fare diversamente per il resto le linee mi sembrano dritte sono dritte anche le orizzontali quindi direi che per questo primo scatto difficilmente si sarebbe potuto fare di meglio. Passiamo al secondo qui abbiamo una bella visione da fuori immagino che questo sia l'ingresso della casa queste io le ho già guardate queste foto quindi questo tavolino ricorre anche dopo e quindi immagino che questo sia il balconcino della casa e probabilmente queste sono le finestre dove da qui la casa affaccia su questo vicolo. L'immagine mi sembra molto buona in particolare riscontro che qui abbiamo il cielo azzurro e qui c'è un buon recupero delle ombre il che mi fa pensare che sia una fotografia hdr e devo dire le linee sono abbastanza dritte quindi da questo punto di vista direi tutto molto bene queste linee qui come potete vedere non sono drittissime ma si evince chiaramente che qui è la geometria stessa dell'edificio a essere storta come potete vedere non è propriamente una casa moderna quindi non mi sorprenderei per niente se fosse abbastanza stortignacola di suo. Una cosa che mi lascia un po' in dubbio è questa porta nel senso che non so questa porta che che ruolo abbia nella vicenda posso immaginare che questa questa parte con quest'edera sia stata inclusa solamente perché era bella l'edera e che questa porta non faccia parte dell'immobile perché io suppongo che l'immobile sia quello sulla destra. In ogni caso io forse avrei provato a includere la porta per intero questa è l'unica cosa che mi sento di dire su questa foto perché per il resto devo dire secondo me è fatta molto molto bene. Procediamo e vediamo un altro scatto a questo punto io qui non riesco a capire cioè non so come sono disposti gli ambienti quindi qui la porta è stata inclusa per intero e addirittura c'è una scaletta anche qui secondo me anche questa è una foto HDR perché insomma vedo una distribuzione di toni tale che mi lascia pensare che sia stato fatto qualcosa per avere le alte luci e le ombre correttamente esposte nonostante questo sole quindi da questo punto di vista devo dire ben fatto le verticali mi sembrano abbastanza dritte quindi anche da questo punto di vista molto molto ben fatto mi piace anche abbastanza proprio a livello di feeling perché a me piace questo tipo di ambientazione quindi da questo punto di vista qui qui non c'è neanche il cielo qui veramente non avrei saputo fare nulla di più questa qui è l'avrei fatta più o meno nello stesso modo. Procediamo qui devo dire stessa cosa più o meno anche qui non c'è il cielo ma anche qui io sospetto che sia un HDR perché vedete qui le ombre sul soffitto e questo sole così sparato secondo me farebbero fatica a coesistere se non fosse stato fatto l'HDR quindi da quel punto di vista va molto bene qui forse si sarebbe potuto raddrizzare un po meglio le verticali questa qui va per questa qui è palesemente storta di suo secondo me e quindi da questo punto di vista non c'era niente da fare credo che sia stata correttamente allineata alla porta di legno quindi esattamente come avrei fatto anch'io qui una cosa che forse avrebbe potuto essere fatta un po meglio è che io qui vedo dello sfocato vedo del fuori fuoco sulle cose più vicine quindi posso immaginare che la scelta sia stata quella di mettere a fuoco le cose lontane perché in questo caso era più importante da questo punto di vista mettere a fuoco in questa zona piuttosto che questa pianta chiaramente diciamo che ad avere avuto il tempo io qui forse avrei esagerato e avrei fatto anche il focus stacking oltre al bracketing per l'HDR questo ovviamente solamente se il cliente avesse pagato abbastanza perché altrimenti no diventa un procedimento veramente lungo e veramente complesso quindi questa è una cosa in più che si poteva fare però fondamentalmente secondo me questa immagine è corretta passiamo a quest'altra immagine che è un po un azzardo per come la vedo io perché qui vedete che è la stessa posizione più o meno solamente che ci siamo abbassati e siamo andati praticamente in mezzo ai vasi con i fiori e mi rendo conto dell'intento è l'intento è chiaramente quello di far vedere un pochino questa zona un po vissuta con questi vasi con questo gattino di terracotta l'idea non è male funziona abbastanza bene diciamo che personalmente io questa non la userei io userei questa perché mi sembra più dritta perché mi sembra che illustri la scena in maniera più neutra ecco questa qui è una fotografia un pochino schierata secondo me è troppo bassa e diventa non voglio dire artistica però è molto interpretata mentre secondo me in un contesto di questo tipo questa è migliore perché illustra correttamente l'ambiente ma senza dargli una connotazione qui siamo proprio in mezzo alle piante e poi di nuovo per gusto mio io non amo particolarmente lo sfocato in primo piano quindi in un'immagine come questa va bene ma di nuovo io avrei fatto anche del focus bracketing per andare a mettere a fuoco anche queste piante e anche questa pianta qui che non sono sicuro se sia levemente sfocata perché si muoveva magari c'era un po di vento e quindi è mossa per quello però le manca dettaglio quindi che ci siano cose levemente sfocate in primo piano come la ringhiera e questo vaso è una cosa su cui io avrei cercato di lavorare in un altro modo non che la foto sia sbagliata era una cosa in più che si poteva fare procediamo e qui sì qui mi trovo un pochettino di più nel senso che questa qui qui ci siamo avvicinati al tavolino questa illustra perfettamente la zona balcone secondo me non è necessariamente detto che questa sia una fotografia universalmente migliore però dal punto di vista della fotografia di interni secondo me questa illustra gli spazi in maniera migliore rispetto a questa questa che pure più evocativa questa è più evocativa però per illustrare correttamente gli spazi secondo me in questo genere bisogna essere un pochino neutri qui ci rendiamo conto benissimo da soli che qui ci sono delle assi che sono storte qui lo stipite della porta è storto si vede benissimo quindi da quel punto di vista non le guardiamo neanche le verticali perché qui è ovvio che non si possono rispettare andiamo avanti e qui troviamo qualcosa di diverso allora personalmente non amo questo tipo di immagini perché mi rendo conto che caratterizzano mi rendo conto che danno un po di contesto che danno un po di colore anche all'abitazione molti clienti le richiedono quindi è giusto fare questo tipo di foto personalmente non le amo e personalmente avrei comunque cercato di fare una scelta un po diversa per quanto riguarda i diaframmi perché a me qui sembra di vedere molto sfocato vedete qui il muro è sfocato e anche qui questo questo questa suppellettile di suppongo ceramica a me sembra lievemente sfocata andiamo a zoomare vediamo se riusciamo a vedere vedete è sfocata rispetto a questo vaso e sono abbastanza vicini quindi secondo me bastava chiudere un pelino il diaframma e avremmo avuto a fuoco anche queste zone qui vedete qui le foglioline sono a fuoco mentre questa parte della cesta non è già più a fuoco io qui avrei cercato di fare una scelta diversa in termini di diaframmi per avere tutto quanto a fuoco perché non vedo un motivo per avere uno sfocato in questo tipo di fotografia che dovrebbe essere descrittiva più che evocativa quindi posso supporre che sia stata scattata a mano libera perché il tempo era quello che era il pagamento del lavoro era quello che era e quindi ci sta che gliela si faccia a mano libera invece di usare il trepiede quindi ci sta che si usi un diaframma un pochettino più aperto ci sta non dico di no dico solamente che se devo valutare la foto di per sé io avrei cercato di tenere tutti i particolari a fuoco in un'immagine di questo tipo andiamo avanti vediamo un'altra immagine su cui sostanzialmente ho da dire esattamente le stesse cose in questo caso io qui la grondaia forse l'avrei raddrizzata mi rendo conto che è un dettaglio minuscolo e sostanzialmente irrilevante però se ce la immaginiamo dentro in un sito web in un portale per gli affitti o per qualsiasi cosa qui casca l'occhio sul fatto che questa qui non è perfettamente dritta sull'altro lato è abbastanza dritta da non farci caso però qui se le mettiamo tutte affiancate qui ci si fa caso che questa qui non è dritta quindi io questa l'avrei raddrizzata proseguiamo qui siamo sempre in un genere un pochino evocativo quindi io adesso vado a ingrandire e qua ecco qua secondo me questo potrebbe essere un problemino nel senso che allora torno un attimo indietro perché voglio rendermi conto di una cosa allora io qui vado a ingrandire e vedete che qui su queste foglioline abbiamo una certa quantità di dettaglio vedete quindi la nitidezza che questa macchina è in grado di restituirci è questa qui che vediamo su questa foglia perché questa è perfettamente a fuoco adesso se noi andiamo avanti io qui quella nitidezza non la vedo e non la vedo perché secondo me questa immagine non è perfettamente a fuoco quindi in un'ottica lavorativa di consegnare un'immagine a un cliente questa foto io l'avrei sicuramente scartata ecco forse forse a fuoco solamente qui e in questo caso secondo me la profondità di campo è troppo poca per poter consegnare questa immagine anche perché abbiamo la fogliolina a fuoco qui ma questo è già sfocato è già fuori fuoco di nuovo quindi qui profondità di campo insufficiente personalmente questa io non la consegnerei andiamo avanti qui vediamo una verticale e qui vediamo che qui invece il fuoco è molto meglio qui abbiamo il fuoco sopra questa questa ceramica e sulle prime foglioline vediamo un pezzettino di tavolo allora personalmente non amo questo tipo di immagini anche perché qui questa qui è una visuale un po soggettiva quindi è come se stessimo guardando dall'alto questa scena però risulta un po stortina qui abbiamo delle linee verticali che chiaramente non si possono raddrizzare in un contesto come questo mi rendo conto che il cliente chieda immagini di questo tipo io tendo a cercare di tamponare il più possibile perché nella mia esperienza se tu metti un'immagine come questa su un portale magari da sola funziona nel portale si vede che è l'unica storta e risulta fuori posto tanto che prima o poi se continui a buttarci l'occhio finisce che la togli perché comunque mescolata insieme alle altre cioè sembra fatta in un altro momento abbiamo le altre tutte dritte precise perfettine con la hdr e questa qui che secondo me la hdr invece non ce l'ha che probabilmente è stata fatta un po più di fretta e sembra fatta in un altro momento quindi anche questa io personalmente forse la consegnerei anche però suggerirei al cliente di mettere le altre per prime ok qui di nuovo siamo fuori qui di nuovo secondo me c'è un hdr perché qui abbiamo una situazione di ombra e una situazione di luce abbastanza marcate come contrasto qui vediamo un po' dov'è il punto di messa a fuoco allora qua non riesco a capire se sta caricando lentamente sì però qui le foglie sono a fuoco il tavolo il questo affare qui come cavolo si chiama questo innaffiatoio sembra essere correttamente a fuoco quindi questa qui non ho granché da dire mi sembra assolutamente corretta forse si poteva lavorare un pochino su raddrizzare la ringhiera in questo punto perché qui di nuovo e mi rendo conto che magari era storta e mi rendo anche conto che magari è stato allineato questo palo più grande quindi può darsi che siano state fatte delle valutazioni diciamo che a me casca molto l'occhio su questa sbarra qui che risulta proprio stortina quindi questa la raddrizzerei e dall'altra parte invece non si nota perché questa qui forse è già dritta di su è comunque così lontana dai margini che non si nota questa qui fondamentalmente mi sembra un'immagine molto buona e non mi dà fastidio lo sfocato perché abbiamo il primo piano a fuoco e lo sfocato dietro quindi in questo caso ci sta che sia sfocato dietro a maggior ragione perché noi vogliamo far vedere questo balcone quello che sta dietro ci interessa meno quindi su questa immagine ho veramente poco da dire qui abbiamo una verticale dello stesso ambiente qui di nuovo la stessa cosa io qui avrei raddrizzato un pochino queste sbarre perché qui si vede proprio qui casca un po l'occhio che non sono drittissime mentre dall'altra parte va benissimo peccato aver tagliato questa sedia però io posso supporre siccome la mano della fotografa mi sembra comunque buona posso supporre che se ha fatto determinate scelte è semplicemente perché aveva una ringhiera dietro le spalle non poteva indietreggiare più di così e probabilmente questa era la lente più ampia che aveva perché siccome vedo che comunque fa le scelte giuste nella maggior parte dei casi per aver tagliato questa in questo modo posso solo supporre che non avesse lo spazio per fare altrimenti quindi se non si ha lo spazio per fare altrimenti la scelta fondamentalmente è corretta capisco anche la scelta di tagliare parte della gamba del tavolo che non è così fondamentale per far vedere i tetti che invece in questo caso sono più importanti perché ci danno una visione completa dell'ambiente in questo caso la foto essendo scattata da più indietro vedo che a fuoco correttamente lo sfondo attenzione però perché qui mi sembra di vedere qui di nuovo secondo me il punto di messa a fuoco è qui su questa finestra e quindi il vasetto qui in primo piano risulta sfocato questa è una cosa che io personalmente non farei perché avere il primo piano sfocato e lo sfondo a fuoco a parer mio indebolisce un po' l'immagine è una cosa da scuola classica è una cosa un po da vecchi me ne rendo conto però scuola da vecchi vuole che il primo piano sia sempre a fuoco perché il primo piano è la prima cosa su cui l'occhio dell'osservatore si posa noi guardiamo prima le cose più vicine più imminenti e dopo andiamo a vedere le cose lontane e inoltre qui forse era più importante mettere nuovamente in evidenza il terrazzino di cui stiamo parlando piuttosto che questo annaffiatoio su questa finestrella che se ho capito correttamente è di un altro immobile quindi non c'entra con lo shooting vero e proprio andiamo avanti qui abbiamo chiaramente una veduta dello stesso balconcino che abbiamo già visto in precedenza questa devo dire molto carina qui si vede un'altra angolazione non vi so dire se sia hdr anche questo oppure no non lo so questa potrebbe anche essere un recupero perché non mi sembra di vedere così tanto contrasto ad ogni modo questa mi sembra abbastanza carina abbastanza riuscita fa vedere uno spaccato diverso di cose che abbiamo già visitato ecco io raddrizzerei queste due grondaie questa qui magari no quella di destra no ma quella di sinistra la raddrizzerei perché di nuovo se andiamo a inserire queste immagini in un portale si vedono tutte affiancate questo si nota che questa qui sia storta si nota quindi a costo di essere meno fedele all'originale di essere meno fedele a quello che c'era veramente però io questa la raddrizzerei in post produzione andiamo avanti abbiamo un'altra veduta dello stesso balcone a questo punto mi domando se questa visuale sia stata scattata da è stata scattata da un altro ballatoio che non c'entra con l'immobile vero e proprio suppongo il che denota inventiva mi piace perché andare a cercarsi una veduta delle finestre dell'immobile del balconcino dell'immobile andando ad arrampicarsi su una scala che con l'immobile non c'entra è una bella cosa ci fa guadagnare un sacco di punti perché andiamo a prendere delle vedute insolite magari che sono anche più difficili da catturare e quindi niente su questa immagine non ho granché da dire perché fondamentalmente mi sembra un'ottima trovata eccoci qui e come potete vedere la nostra supposizione di prima era corretta vedete la nostra fotografa non poteva indietreggiare più di così perché aveva un muretto dietro e questo spiega come mai ha tagliato un pezzo della sedia perché probabilmente non poteva andare più indietro di così qui ha fatto una fotografia dell'ingresso che quindi forse è un altro ingresso quindi c'è un'altra scala che arriva su fin qui e questo qui è un secondo ingresso e quindi probabilmente la foto precedente l'ha scattata da questa scalinata qui che arriva a questa seconda porta quindi di nuovo buon lavoro perché così fa vedere un altro punto di vista ma che fa sempre parte della stessa casa qui io credo che abbiamo sempre lo stesso problema di prima ovvero sarebbe stato bello includere questa tettoia nello scatto così come sarebbe stato carino includere i terminali di questa ringhiera però di nuovo tiro a indovinare mi immagino che ci fosse un impedimento per cui era impossibile andare più indietro di così e quindi la foto fondamentalmente è corretta perché se siamo con le spalle al muro più indietro non possiamo andare abbiamo fatto tutto quello che potevamo andiamo avanti bella bella questa mi piace un sacco questa qui è proprio bella 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 e devo dire che è bella nonostante delle cose che di primo a chito mi fanno storcere un po il naso cominciamo in ordine andiamo in ordine innanzitutto credo che sia un hdr perché qui c'è il cielo azzurro e qui ci sono delle ombre quindi secondo me questa qui è un hdr bello questo vialetto mi piace un sacco qui ci sono mi domando se queste cose siano state curate oppure se erano già così perché è molto carina questa scalinata decorata in questo modo qui abbiamo il nostro tavolino di prima qui capiamo benissimo che si accede da questa scala quindi il nostro immobile è questo qui abbiamo queste tettoie che qua si vedono bene qui abbiamo la nostra edera rigogliosa bellissima ambientazione molto molto bella io qui mi rendo conto che questa deve essere storta per forza di cose questa qui abbastanza ma qui abbiamo delle verticali storte ma c'è poco da fare qui perché questa qui è una fotografia fatta in discesa quindi stiamo scattando verso l'alto e c'è poco da fare sono storte per forza di cose si possono correggere in post produzione però andiamo a perdere un pochettino di quest'area quindi io proverei a raddrizzarle comunque perché sono pignolo e perché a me rompono sempre le scatole quando non lo faccio quindi io proverei a raddrizzarla comunque però questa è una gran bella foto ecco avanti abbiamo un'altra veduta simile quindi qui in realtà parte di quel problema è stato ridotto perché qui io vedo delle verticali belle dritte e quindi forse era possibile sistemare anche l'altra qui ragazzi qui la verità è che qui ci voleva una lente tilt and shift qui ci voleva un'ottica decentrabile in maniera tale da ottenere questo effetto in verticale e probabilmente sarebbe stata la soluzione migliore però guardate io stesso non possiedo una lente del genere perché costano veramente tanto e servono solo a fare questa cosa qui e oltretutto sono focali fisse con cui io non mi trovo particolarmente bene non tanto perché siano fisse ma perché il massimo che esiste mi pare sia un 17 e io per fare una cosa del genere avrei voluto un 16 un 14 quindi non è mai stata una scelta che mi sono sentito di fare questa è un'altra immagine secondo me molto caruccia qui mi pare di indovinare che sia a fuoco alla ringhiera andiamo a vedere un pochino qui a fuoco alla ringhiera e questo è decisamente un hdr almeno secondo me perché qui vedo un pochettino di artefatti che secondo me sono facilmente dovuti a un hdr e allora qui bisognerebbe andare a lavorarci un pochino è perché questi artefatti il cliente non li vede ma io sì ed è un peccato che ci siano questi artefatti perché secondo me si possono recuperare molto facilmente così come anche questo sfocato io qui ho l'impressione che qui sia stato fatto un hdr mescolando degli scatti con un punto di messa a fuoco diverso la mia impressione è questa quindi la foto è bella la composizione è bella però secondo me c'è un errorino nella composizione del file finale hdr o sono state pescate due esposizioni diverse oppure c'era un punto di messa a fuoco diverso e qui è stato interpretato in maniera errata una cosa che non so se mi piace o no è questo cespuglio che è mosso in questo caso vedete quando si fa l'hdr ci sono certe cose che si muovono probabilmente per via del vento e quindi poi mescolando i tre scatti si trovano in posizioni diverse e vengono ghostate in questo modo esiste la possibilità di utilizzare l'algoritmo di deghosting che dovrebbe andare a risolvere in questo caso avrebbe dovuto risolvere quasi al 100% perché per nostra fortuna questa pianta era tutta in ombra quindi qui sarebbe stato più complicato perché metà al sole metà in ombra il deghosting faceva fatica ma qui era tutta all'ombra quindi secondo me questa con un po di deghosting poteva venire fuori molto molto meglio e insomma sono spietato in queste in queste critiche sono spietato dico proprio tutto quello che potrebbe essere fatto meglio perché così vi serve per fare meglio la prossima volta e per vedere magari cose che si possono migliorare fondamentalmente poi la foto va bene l'unica cosa che secondo me non va bene è quest'area qui dove ci sono un po di artefatti però va anche detto che vista così non si vede io stesso ho dovuto ingrandirla se no non me ne accorgevo andiamo avanti vedete che su quest'altra è vedete qui è corretto cioè guardate che differenza questa qui qui ci sono degli artefatti tanti anche guardate qua questa qui è giusta e anche qui vedete quello sfocato che qui non c'è più qui la ringhiera è corretta a questo punto vi dico una cosa io la foto precedente non la consegnerei consegnerei questa invece comunque queste due sono così simili che attenzione anche questo è importante non si danno due foto della stessa angolazione queste due sono troppo troppo uguale cioè fondamentalmente è la stessa foto consegnata due volte quindi a maggior ragione che questa qui ha delle imprecisioni degli errori questa qui è da eliminare secondo me perché così eliminiamo il nostro errore non facciamo vedere al cliente che abbiamo fatto un errore poi magari se ne accorge dopo magari se ne accorge qualche cliente insomma quella di prima è assolutamente da eliminare secondo me anche perché c'è questa qui che invece è perfetta quindi questa qui va benissimo si consegna questa qui e si scarta quella di prima qui abbiamo di nuovo questo problema della pianta che sicuramente si è mossa nel vento e comunque era sfocata perché insomma qui c'è una separazione dei piani abbastanza evidente anche qui io forse me la sarei giocata anche in focus bracketing per avere la pianta a fuoco mi rendo conto che diventava un macello perché poi una pianta mossa di cui bisogna fare tutte queste tutte queste sovrapposizioni non se ne usciva vivi quindi probabilmente la soluzione migliore è questa e questa qui non è non è per niente una cattiva foto quella di prima da eliminare parere mio andiamo avanti e vediamo che siamo andati indietro e qui abbiamo una bella orizzontale alle orizzontali a me piacciono sempre perché lasciano spaziare l'occhio i nostri occhi sono disposti in orizzontale e al di là del fatto che per esempio airbnb le vuole orizzontali io personalmente preferisco quando vedo una scena in orizzontale perché se la voglio vedere in verticale cioè zoom in avanti e qui ho una sezione che potrebbe essere considerata verticale ma se io voglio vedere la scena intera questa è la scena come si presenta ai miei occhi io non vedo solo la scala ma vedo anche questo vaso che non c'entra niente vedo anche questa roba che non c'entra niente ma vedo tutto i miei occhi inquadrano tutto quindi questa a me piace di più anche qui credo che sia un hdr perché secondo me questo vicolo era buio da morire mentre qui c'è il sole sparatissimo qui mi rendo conto che non è facile bilanciare tutte quante le cose però devo dire le linee verticali sono dritte sono abbastanza dritte anche le orizzontali quindi questa mi piace non ho granché da dire andiamo a vedere punto di messa a fuoco che è sulle scale allora unica cosa io qui io avrei messo a fuoco da queste parti probabilmente non sulle scale perché se io metto a fuoco sulle scale tutto quello che viene prima risulta palesemente sfocato mentre se io metto a fuoco qui probabilmente dal punto di messa a fuoco indietro c'è una profondità di campo maggiore che dal punto di messa a fuoco in in avanti verso di noi quindi mettendo a fuoco questo cespuglio per esempio invece della scala probabilmente avrei avuto a fuoco sia il cespuglio sia la scala invece così il cespuglio risulta fuori fuoco che è una cosa neanche tanto è neanche tanto si vede appena però la scala è bella crispy mentre questo cespuglio non è molto crispy forse perché si muoveva no 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 mi devo correggere no no la messa a fuoco è corretta perché il muro qui è a fuoco quindi il cespuglio non è a fuoco queste qui non sono a fuoco perché si muoveva no 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 ok allora è corretto e allora va bene così perché se queste si muovevano ma il resto è a fuoco allora è giusto così niente questa mi piace molto bene ma adesso siamo dentro e io qui mi rendo conto che abbiamo un po di problemi perché visto che mi sono fatto un'idea di che tipo di lente sta venendo utilizzata questa sembra essere una casa molto piccina e quindi qui facciamo fatica ovviamente facciamo un po di fatica e quindi tagliamo questa porta il mobile chi se ne frega e la libreria sarebbe stato carino magari riuscire ad averla intera per avere quest'angolo completo però mi rendo conto come prima che probabilmente non c'era lo spazio quindi è probabile che questa sia la cosa migliore che si poteva fare qua a me sembra di vedere che c'è un recupero delle alte luci quindi bene state recuperate le alte luci per renderla una fotografia con un'alta gamma dinamica e un basso contrasto il che va benissimo questo mobile mi domando se è storto di suo che è possibilissimo oppure se la ripresa poteva essere in qualche maniera raddrizzata ad ogni modo io raddrizzerei anche questo anche se era storto davvero perché otticamente è più bello vedere queste verticali dritte così come anche il calorifero io andrei a raddrizzare calorifero e questo scaffale perché sono convinto che come detto prima nell'ottica di metterle in un portale la visione generale se ne giova se raddrizziamo le verticali andiamo avanti oh bella veduta ampia qui abbiamo porta d'ingresso con scala si capisce benissimo che c'è una scala anche per via del corrimano abbiamo una luce un po' sparatina che viene da fuori e anche qui secondo me si poteva fare qualcosina di più sul recupero di questa luce mi domando se qui sia stato fatto il bracketing per l'hdr oppure no e mi rispondo da solo secondo me non è stato fatto perché qui su queste tende si poteva fare un recupero un po più aggressivo se avessimo fatto il bracketing se avessimo fatto i tre scatti così come anche su questa luce qui evidentemente c'è perdita di dettaglio non è grave è semplicemente come detto è una cosa su cui io avrei lavorato diversamente perché nell'ottica di consegnare il lavoro fatto nel miglior modo possibile intanto io avrei acceso anche questa vedete qui correttamente ci sono le luci accese io avrei acceso anche questa questa qui questa non riesco a capire se è una lampada oppure no 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 è un vaso è un vaso come non detto queste qui correttamente sono tutte accese io avrei acceso anche questa forse era rotta forse era per bellezza non si sa io avrei provato ad accenderla nel caso fosse stato possibile e però avrei sicuramente cercato di fare un recupero su queste aree dove ci sono i dettagli bruciati per il resto di nuovo io qui mi rendo conto che sicuramente avevamo un muro alle spalle quindi inquadrare per intero anche questo tavolino non era possibile e andare a tagliare su questo muro forse non era la scelta migliore perché diventava più claustrofobica quindi sono convinto che questa sia la scelta corretta luci a parte andiamo avanti qui abbiamo un dettaglio praticamente perché qui abbiamo un dettaglio di questa libreria incastonata nel muro anche abbastanza carina con questo mobiletto che va a incorniciare il tutto questa foto a me sembra fondamentalmente corretta l'unica cosa però di nuovo mi rendo conto che il motivo probabilmente è sempre lo stesso io avrei provato a prenderlo tutto questo mobiletto così come anche il quadro avrei provato a andare un pochettino più indietro un pochettino più a destra in maniera tale da prendere quest'angolo per intero se è stata fatta così posso supporre che non fosse possibile quindi la mia critica cade un po a vuoto però in un mondo perfetto avrei provato a prendere questo mobiletto per intero andiamo avanti e adesso capisco perché non è stato preso per intero perché vedete che qui noi vediamo le prime due ante questo mobile ne ha una due tre quattro quindi prenderlo per intero era completamente impossibile inoltre c'era il muro subito dietro questa è un'immagine carina questa qui è un'immagine carina perché qui si vede chiaramente che c'è il muro quindi stiamo prendendo tutta la stanza c'è la porta aperta che lascia entrare della luce ma non mi sembra che ci sia eccessiva perdita di dettaglio le verticali sono secondo me accettabili perché questa porta io non ci credo per niente che è dritta secondo me una porta così è tutta storta e quindi va bene che sia un pochettino storta il muro qui è irregolare quindi va benissimo così qui io queste forse le avrei accese tutte forse sono accese tutte io non lo vedo però questa sembra accesa le altre spente se possibile le avrei accese tutte e qui sicuramente avrei provato a fare un bracketing un po più invasivo per recuperare queste alte luci qui l'unica cosa è questa l'unica cosa è il recupero delle alte luci qui avrei provato a essere un pochettino più aggressivo e qui che cos'è che c'è farei sparire questo filo e farei sparire questa questa placca riflessa qui dentro nello specchio queste due cose non sono belle da vedere quindi un pochettino di photoshop andrei a far sparire queste due cose che non mi piacciono granché così come forse anche quest'affare che probabilmente è un pannellino di qualche tipo lo farei sparire perché in un ambiente del genere non mi piace per niente che si veda un affare tecnologico come questo forse anche questo pistolino qui sul calorifero lo farei sparire un po di timbro clone lo andrei a rimuovere perché mi mi rovina un po l'atmosfera è una cosa mia personale non è necessariamente un errore però io lo farei sparire andiamo avanti qui abbiamo un'altra immagine sempre di quest'angolo allora qui al di là del fatto che io qui raddrizzerei un po questa verticale qua perché questa qui mi sembra proprio un po stortina forse il mobile è storto davvero ma io la raddrizzerei comunque qui non mi piace granché che ci sia questa tagliata e che ci sia la libreria tagliata cioè mi rendo conto che questa risulta essere una foto di questa parete però io quasi l'avrei fatta in verticale a questo punto cioè l'avrei fatta in verticale escludendo queste luci escludendo la libreria perché così mi sembra un po tagliata non dico che non la consegnerei perché ci sta però non mi fa impazzire secondo me qui si poteva fare di meglio andiamo avanti qui non capisco non capisco da dove viene questa luce non capisco se abbiamo una porta aperta alle spalle o è stato usato un flash per avere questa questa o quest'ombra di questa mongolfiera così pronunciata però in fondo non è neanche così importante se è stato usato un flash è soltanto un arco in più la nostra faretra quindi va bene non mi piace tanto questo riflesso questi riflessi qui non mi fanno impazzire io qui avrei provato a fare uno scatto con la luce accesa e uno con la luce spenta in maniera tale da eliminare questi riflessi in post produzione per il resto questo qui non mi fa impazzire però forse era veramente storto così forse era un mobile triangolare insomma quasi poteva raddrizzare si può ancora attenzione si può ancora queste foto possono essere ancora corrette e si possono raddrizzare queste verticali però qui vedete che c'è una discrepanza c'è qui questa i problemi di queste case che sono veramente storte di loro c'è questa porta e questo mobile sono storti uno da una parte uno dall'altra e qui diventa diventa veramente difficile correggere le verticali quindi ci può anche stare lasciarle così questo libro con la copertina un pochettino arricciata non mi dispiace perché qui c'è un orsacchiotto che ci fa capire forse questa era la stanza dei giochi dei bambini questo fa molto casa fa molto comfort e quindi ci sta non mi dispiace non è male questa immagine non è male andiamo avanti vediamo altra visuale qui capiamo benissimo dove siamo perché abbiamo lo stesso libro arricciato qui abbiamo lo stesso tavolino e qui capiamo perché le foto vengono fatte in questo modo vedete perché vedete 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 questo qui è effettivamente storto quindi probabilmente ci stava lasciarlo storto perché è inutile raddrizzare una cosa che nasce storta quindi andava bene così qui verticale perfetta questo dettaglio in primo piano ci sta anche se non è perfettamente a fuoco ma in questo caso direi che non mi dà neanche fastidio non mi piace tantissimo che qui non sia perfettamente a fuoco qui come vedete il punto di messa a fuoco è chiaramente qui su questo scrittoio che è molto bello ci sta che sia bene a fuoco però non so io forse qui avrei provato a chiudere di più il diaframma se possibile ripeto non so con che diaframma è stato scattato magari eravamo già al massimo però io avrei provato ad avere a fuoco anche quest'area perché comunque abbiamo a fuoco da qui in poi io avrei provato a tenere a fuoco anche quest'area perché averla fuori fuoco un pochino mi disturba e soprattutto avrei provato a fare l'hdr per recuperare questa luce qui abbiamo un po di perdita di dettaglio e personalmente non mi piace tanto avere questo tipo di perdita di dettaglio in foto di questo tipo quindi avrei provato a recuperarla andiamo avanti qui abbiamo ancora questo mobile che ormai io sono convinto che sia stortissimo vedete non so se incurvato dal tempo magari è proprio intagliato così fatto sta che questo è difficile da raddrizzare io ci proverei comunque però mi rendo conto che è storto di suo quindi difficile da raddrizzare qui abbiamo uno schermo di un computer suppongo che essendo storto di suo va bene così avrei cercato come sempre di recuperare un pochino di più questa luce però fondamentalmente l'immagine va bene un'altra cosa come sempre che non mi fa impazzire allora abbiamo perfettamente a fuoco la parte dietro quindi abbiamo a fuoco la porta gli interruttori abbiamo fuori fuoco questa parte e come già detto è sempre la solita cosa a me non piace particolarmente avere il primo piano sfocato perché è una delle prime cose che vado a guardare il mio occhio casca proprio qui è la cosa più vicina che ho mi sembra di essere seduto a questo tavolo e quindi prima guarderei qui e poi il mio sguardo si sposterebbe dietro e così la prima cosa che vedo è sfoccata avrei provato a mantenere tutto quanto a fuoco chiudendo il diaframma ma è possibile che non si riuscisse è possibile che questo fosse già al massimo andiamo avanti questa mi piace di più mi piace di più perché essendo un pochettino più indietro si vede un pochino di più questo monitor peccato che sia segato questo sarebbe stato meglio averlo incluso tutto e non sarebbe stato male averlo anche acceso perché così è molto nero io avrei provato ad accenderlo per vedere se cambiava qualcosa qui stessa cosa di prima questa luce secondo me si poteva recuperare un po meglio questo mobile è stortissimo ma non ci possiamo fare niente è lui che ha fatto così e di nuovo di nuovo siamo perfettamente a fuoco sullo sfondo ma di nuovo qui siamo sfocati quindi questa è una cosa su cui io sicuramente lavorerei cercare di mettere a fuoco prima il primo piano e dopo lo sfondo perché questa porta è piccola cioè capite che cosa intendo se questa fosse stata sfocata io non me ne sarei nemmeno accorto perché non l'avrei ingrandita fino a questo punto se questi dettagli fossero stati a fuoco il mio occhio si sarebbe fermato qui avrebbe visto questo a fuoco e non sarei nemmeno andato a ingrandire dietro e quindi dietro avrebbe potuto essere un pelino sfocato però avremmo avuto il primo piano a fuoco io avrei fatto questa scelta in maniera diversa però è proprio una questione di metodo perché mi rendo conto che è proprio una scelta diversa dalla mia andiamo a vedere qui invece sono d'accordo qui ci sta che questo stipite sia fuori fuoco in favore di questo scrittoio che invece stavolta risulta essere perfettamente a fuoco di nuovo la luce qui un po da recuperare allora qui c'è una cosa che devo segnalare qui a me sembra di vedere una esposizione e una temperatura colore anche notevolmente diversa tra questi due scatti questo andrebbe uniformato quindi si sceglie o un'esposizione o l'altra però queste due foto dovrebbero essere uguali qui c'è troppa differenza mi viene anche il dubbio che qui sia stato usato un flash e qui invece no perché è proprio diversissima o sono state scattate in momenti diversi della giornata però insomma andrebbero secondo me uniformate e un'altra cosa che non mi piace è questo riflesso qui sul vetro io forse avrei provato a scattare da dentro con la porta chiusa prendendo lo scrittoio per intero però eliminando questo riflesso perché non mi fa impazzire mentre per contro i quadri qui dietro sembravano molto carini però questa è una questione di gusto quindi non starei neanche a recriminare su questo è una foto che va bene sostanzialmente andiamo avanti e vediamo che stiamo sempre più indietro quindi a questo punto stiamo uscendo e quindi a questo punto forse ho capito è stata abbassata l'esposizione generale perché qui avevamo della luce che arrivava da fuori sì sì l'ideale sarebbe stato scattare in un momento diverso della giornale vedete che vedete che infatti abbassando l'esposizione adesso questa luce è molto meglio questa luce è recuperata in maniera molto migliore perché abbiamo abbassato l'esposizione generale questa immagine non mi dispiace perché ci lascia vedere che qui c'è la fine della stanza che stiamo uscendo o entrando questa qui non mi dispiace illustra abbastanza bene quello che è l'ambiente qui si vede anche una luce in più anch'essa recuperata abbastanza bene quindi questa immagine mi sembra abbastanza buona qui abbiamo un'immagine molto storta però ragazzi vi dico in questo caso ci sta tantissimo perché facciamo vedere questa scala e questo è uno dei pochi modi di far vedere una scala come questa perché è una scala vedete com'è irregolare è storta di suo quindi prenderla di infilata così è una buona soluzione perché ci permette di vedere che c'è una scala capiamo che da sul piano dove ci sono i divani che abbiamo già visto prima qui c'è anche una luce che qui è stata accesa mentre forse prima era spenta quindi anche questo bene vediamo qui dov'è il punto di messa a fuoco sembra che sia qui sul muro quindi più o meno a metà strada in questo caso direi che va anche bene io l'avrei messo ancora un po' più vicino alla camera l'avrei messo qui sulla ringhiera più che qui sul muro però poca cosa fondamentalmente quest'immagine va bene forse avrei cercato di includere il terminale della ringhiera però forse non era possibile per motivi già detti bagnetto la stanza più problematica di tutte perché di solito è piccola qui abbiamo una bella doccia presa per intero con un mobiletto molto particolare che personalmente non sceglierei mai anch'esso preso praticamente per intero direi molto molto bene una cosa che non mi piace è questo affare che non so cosa sia sarà un elettrodomestico un filo è un filo di qualcosa insomma infognato lì dietro io questo lo cancellerei non mi piace per il resto va tutto bene forse tolgo il forse bisognerebbe pulire questa zona questi segnetti io andrei a farli sparire così come anche lo so che è brutto però qui o si dà una passata se vi invia con lo straccetto quando si è in loco se no io questi in photoshop li andrei a eliminare qui è un po' un altro discorso cioè vedete si potrebbe eliminare anche questo sporco sul mobile però questo è un mobile un po' fatto così quindi qui non mi disturba lì per terra nella doccia dove poi uno va coi piedi o qui questo lo farei sparire perché sembra uno sporchino magari non lo è magari è la pietra che è fatta così però sembra uno sporchino quindi questo lo eliminerei altro lato del bagno allora qui sono sicuro che non era possibile fare di meglio con quello che avevamo perché indietreggiare di più non era possibile quindi mi sembra una buona foto questa dove si vede si vede una parte della doccia si vede il calorifero si vede di nuovo il mobile cosa diavolo è questa roba qui è una ciotola questa affare qua è un catino insomma non mi piaceva prima perché sembrava un pezzo di filo che veniva fuori qui invece ci può stare perché adesso si capisce meglio che cos'è quindi qui non mi dà nessun problema lo lascerei qua avrei sicuramente provato a recuperare un pochettino queste alte luci così come anche questo sfogo qui sulla lampadina so benissimo che non era possibile includere lo specchio per intero perché siamo con le spalle al muro se fosse stato possibile includere lo specchio sarebbe stato meglio però mi rendo conto che non era probabilmente proprio possibile qui che cosa abbiamo questo non so che cosa sia ma io lo farei sparire sia che sia una macchia sul muro sia che sia una macchia sul vetro sia sia che sia un chicco di polvere sul sensore lo andrei a far sparire ok qui abbiamo altra visuale con lo specchio intero qui non ho gran che da dire mi sembra tutto abbastanza ragionevole se non che avrei recuperato di più le alte luci su questa su questa lampadina ovviamente sempre fermo restando che dipende da quanto siamo stati pagati perché se ci hanno dato pochi soldi per fare lo shooting in fretta è ovvio che gli facciamo lo shooting in fretta così come è ovvio per esempio che questo muro non glielo sistemiamo sia perché immagino che non ci paghino per fare tutta questa post sia perché è una casa rustica e quindi non glielo sistemiamo glielo lasciamo così magari qui si poteva dare una flashata sul soffitto per cercare di ammorbidire un po le ombre provenienti da questa lampadina si sarebbe magari potuto fare però mi rendo anche conto che si poteva anche non fare i fin dei conti va anche bene così sarei curioso di sapere se si poteva includere questa parte del lavandino per intero magari sacrificando un pezzo di muro qua che non mi dice così tanto forse avrei preferito vedere la fine della mensola di questo lavandino però poca cosa questo non capisco che cosa sia non mi piace e vi dirò che forse lo farei sparire non capisco neanche che cos'è però non mi piace granché messo lì così sembra un sasso messo male quindi questo forse lo cancellerei andiamo avanti e qui abbiamo una visuale simile a quella di prima su cui ho da dire sostanzialmente le stesse cose ovvero avrei recuperato meglio avrei fatto un bracketing per fare l'hdr recuperare meglio questa zona per il resto va sostanzialmente bene peccato che non si vede il bocchettino del lavandino avrei magari cercato di includere anche quello però sappiamo benissimo che l'ambiente era ristretto quindi probabilmente non si riusciva sostanzialmente va bene le verticali sono dritte le orizzontali sono abbastanza dritte anche quelle salvo questa che però è fisiologicamente così e quindi secondo me va anche bene passiamo al master bedroom suppongo allora qui qui secondo me ci sono un po di cosine da sistemare vi lascio in card a questo proposito un video in cui vi faccio vedere proprio questo come si vanno a sistemare questo tipo di situazioni qui questa trapunta io mi rendo conto che non possiamo metterci a stirarla mentre siamo lì così come queste testiere però sono molto disordinate esistono dei metodi anche in post produzione che appunto vi lascio nel video linkato in card con cui possiamo andare ad appianare questa situazione che messa giù così non è molto invitante quindi io questo andrei sicuramente a sistemarlo avrei sistemato un po meglio già in loco nel senso che qui abbiamo l'angolino fuori e qui è un po irregolare quindi l'avrei magari fatto su meglio in loco e poi però l'avrei lisciato bene in post produzione per il resto l'immagine mi sembra molto buona veramente molto buona perché l'unica cosa che si sarebbe potuta fare in più magari era includere per intero questa finestra ma sappiamo che probabilmente non si riusciva e quindi va bene così qui come già detto io avrei fatto un po di bracketing avrei recuperato un po di più queste tende così come avrei recuperato un po di più questo questo punto di questa che cosa ho fatto sono riuscito in un'impresa impossibile ovvero quello di far cresciare amazon photos va bene passiamo alla prossima che tanto lì avevamo detto tutto qui abbiamo esattamente lo stesso problema di prima ovvero qui secondo me c'è un pochettino troppo dettaglio bruciato in questa luce peccato che c'è sto quadro segato io questo avrei cercato di prenderlo per intero qui abbiamo di nuovo un po di disordine qui c'è il piumone che viene fuori questo sarebbe stato da sistemare un po meglio io avrei acceso anche queste lucette qui forse erano rotte forse non funzionavano però io avrei acceso anche queste qui c'è da lisciare un po la situazione per il resto la fotografia va bene io avrei provato semplicemente a includere anche questo quadro ecco questa qui mi piace già di più perché qui abbiamo una simmetrica io una volta ero un grandissimo fan delle simmetriche adesso le apprezzo molto di meno perché mi rendo conto che sono meno sono meno illustrative di quello che è l'ambiente però qui riusciamo a vedere che ci sono due porte che danno accesso a questa master bedroom qui abbiamo il nostro quadro da cui avrei provato a eliminare questi che sembrano riflessi di nuovo la tecnica di prima e avrei anche provato a eliminare questo che è il riflesso della lampada che abbiamo alle nostre spalle non mi piacciono per niente queste lampade mi sembra che abbiano poco a che fare con l'ambiente non mi non mi piacciono proprio per niente però questa qui in compenso è accesa quindi sì io le avrei accese tutte due queste sarebbe stato meglio personalmente avrei fatto sparire questa che sembra una un'immagine sacra perché secondo me non ci sta cioè ci sta in un ambiente del genere però io una cosa che metto in affitto in vendita l'avrei spogliata di ogni connotato religioso e quindi l'avrei nascosta per fare la fotografia per il resto l'immagine buona c'è questo monitor messo lì così mi rendo conto che mi fa capire che c'è un televisore però messo lì così segato non è il massimo mi rendo conto che non si poteva fare altrimenti sto proprio cercando il pelo nell'uovo ok questa qui mi piace di più qui abbiamo il monitor che si vede per intero qui abbiamo una bella situazione vedete qui qui è stato recuperato bene qui sono state recuperate bene le tende e anche questa mi sembra recuperata meglio avrei fatto un lavoro di questo tipo anche sulle precedenti questa immagine non mi dispiace anche se qui guardate guardate questa cosa qua c'è tutta questa parete c'è tutto questo spazio di parete che secondo me è un po' sprecato perché è vuoto non sta succedendo niente qui quindi avrei provato a tagliarla qui l'immagine e spostarmi magari un pochettino più a destra e un pochettino più al centro in modo da prendere un pochettino più di letto e evitare questo muro che mi rendo conto mi dà la misura del fatto che qui la stanza è finita però non è particolarmente bello da vedere oltre a essere irregolare un po' stortino e sfocato e quindi io mi sarei mosso un pochettino più in questa direzione per cercare di prendere entrambi i cuscini magari tutto il calorifero evitando di prendere questo muro che secondo me serve a poco e un'altra cosa che si sarebbe potuta fare qui era accendere il televisore o magari mettere in evidenza se c'era netflix o cose del genere accendere mettere il logo di netflix in evidenza in maniera tale da far vedere che c'è la connessione a netflix in questa camera molto bene altra stanza altro regalo qui siamo nella cucina cucina veramente tanto rustica in cui il microonde stona tantissimo perché l'oggetto più tecnologico di tutta la casa il frigorifero non so nemmeno che brand è questo qui ricorda un pochettino la smeg però sono convinto che sia molto più vecchio qui ci sono le calamitine che ci stanno i riflessi che sono inevitabili ci stanno tavolo di vetro che anche se è tagliato non mi disturba qui si poteva raddrizzare un po meglio questa verticale e anche qui si poteva raddrizzare un po meglio il frigo questi si possono ancora raddrizzare io li metterei un pelino più dritti per il resto la cucina mi sembra in ordine quindi molto bene carina la casa con tutte le sue suppellettili qui si poteva recuperare un pochino di più su queste alte luci sicuramente però sostanzialmente l'immagine buona mi rendo conto che come sempre non si poteva fare di meglio perché qui a me sarebbe piaciuto andare con un bel 14 mm e prendere per intero anche questa porta prendere per intero anche il tavolo prende per intero anche il frigo sono convinto che non si riuscisse perché eravamo di nuovo con le spalle al muro perché cioè lo vedo che la fotografa sta cercando di fare le scelte giuste quindi se non le porta a termine devo supporre che non avesse lo spazio per farle ok altra veduta dello stesso ambiente qui abbiamo la nostra gallina su questo trespolo e qui abbiamo la nostra gallina su questo trespolo qui vediamo che c'è anche un'occa che fa il fermaporte allora questa immagine è bella mi piace però bracketing qui bisogna fare bracketing c'è troppa luce che arriva da fuori qui bisogna fare un bel bracketing per far vedere cosa c'è qui fuori perché sembra sembra che stiamo andando a schiantarci nel sole così è veramente troppo luminoso io non credo che sia stato fatto il bracketing in questa immagine perché se fosse stato fatto un po più di recupero ci sarebbe quindi sono convinto che su questa ci sarebbe del margine di miglioramento le verticali sono abbastanza dritte non sono perfette però io qui sono convinto che questo stipite sia storto di suo sembra sembra spiovente quindi probabilmente va bene così non è una brutta foto si vede questo trave molto caratteristico si intuisce che qui c'è un ambiente con tutti questi quadretti carino c'è il tavolino non è una brutta foto io forse farei sparire il contatore perché mi rendo conto che ci deve essere c'è davvero proprio brutto forse lo farei sparire quindi qui poco da dire farei sparire questo farei il bracketing per le aree dell'esterno e accenderei questa luce tutto qua per il resto mi sembra una buona foto qui esattamente la stessa guardate guardate qua la lampada di cui parlavamo all'inizio si poteva accendere quindi io l'avrei accesa anche nella foto all'inizio di cui abbiamo parlato all'inizio queste qui invece adesso sono spente io le accenderei tutte queste le avrei tenute tutte accese questa immagine non è male si vede bene tutto quanto non capisco perché qui c'è un buon recupero della luce da fuori e qui invece no forse perché qui c'erano le tende qui era troppo forte non si riusciva a recuperare ma io avrei provato con un bracketing un pochino estremo a recuperare anche quest'area secondo me si riusciva però devo dire qui il tavolo è incluso per intero sì peccato che sia tagliata la ringhiera qui e peccato che sia tagliata la sedia però abbiamo già visto il problema è proprio che la casa è piccola e con con la lente in nostro possesso non riusciamo andare più indietro di così quindi è una scelta obbligata ok vedete però che secondo me secondo me la nostra fotografa è molto consapevole delle cose che io vi sto dicendo perché ogni volta che vi dico che è stato un peccato tagliare qualcosa vedete che poi lei fa una seconda foto per includerlo quel qualcosa e qui ci fa vedere che c'è una mensola con calorifero con sopra statuine di bronzo molto carine qui abbiamo la stessa scaletta di prima luce accesa molto bene luce accesa molto bene spenta 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 io queste le avrei accese tutte e qui di nuovo bracketing assente io qui l'avrei fatto tenete conto che le foto di interni col bracketing sono importanti tanto quanto quelle fuori è importante far vedere anche il fuori anche aprendo le tende far vedere se c'è cielo o muro fuori è molto importante quindi a meno che a meno che proprio non ci sia una discarica fuori che allora uno dice guarda lascio le finestre tutte bruciate perché sennò quello che si vede fuori è peggio ma è l'unico caso altrimenti se non c'è una discarica fuori io lo farei vedere fuori comunque qui non mi piace che sia stato tagliato questo mobiletto secondo me qui io qui forse avrei preso un po meno mensola che tanto è sfocata però qui ci sta perché il focus è questo io avrei preso un po meno mensola avrei cercato di prendere intero questo mobiletto ma forse c'era un muro qui che lo impediva quindi non è detto che questa sia una scelta sbagliata o finalmente siamo nell'angolino che non abbiamo ancora visto da qui qui vediamo che c'è anche una simpatica freccia che ci indica giù non mi piacciono sti riflessi sui quadri questi io qui avrei fatto la doppia foto luci accese luci spente e avrei eliminato oppure in post produzione in qualche maniera avrei eliminato questi riflessi per il resto verticali perfette niente questa qui è buona anche qui un po di recupero in più sulle alte luci avrebbe fatto sicuramente qualcosina in più però l'immagine è buona qui abbiamo qui siamo sopra le scale qui siamo sopra le scale questa immagine non è male questo quadro secondo me è stortissimo di suo queste pareti qui mi danno pochissima affidabilità quindi non so quanto sarebbe stato possibile raddrizzarlo anche se io ci proverei a raddrizzare questa roba il muro qui invece è perfettamente dritto quindi forse si poteva tirare un pochino qui per per raddrizzare questo quadro forse no però una cosa è sicura avrei provato a eliminare questi riflessi o con un filtro polarizzatore circolare oppure facendo più scatti uno scatto con la luce spenta con questa luce spenta e con il flash sul soffitto in modo da rischiarare e di avere l'immagine del vetro pulita per il resto mi sembra una buona immagine cosa c'è qua cos'è questa roba la porticina per il gatto credo per il gatto non penso sia una porticina per i topi sì sì deve essere la porticina per il gatto carina buona foto è una buona foto bella bella l'idea di mettersi qui a fare questa angolazione foto va assolutamente bene giusto quelle due cosine avrei raddrizzato e fatto un po di recupero in più sulle alte luci o finalmente vediamo quest'angolino che prima avevamo mancato accesa molto bene spenta io questa l'avrei accesa e qui c'è un monitor avrei provato ad accendere anche questo qui c'è un chitarrino molto bene qui c'è un riflesso che cos'è questo riflesso qui che non mi piace mica tanto no è della delle corde di ricambio sono infilate sotto queste io forse le avrei fatte sparire perché non mi piace questa roba qui questa macchia chiara qui a colpo d'occhio non mi piace le avrei nascoste dietro e qui polverino sarebbe da far sparire e questo cos'altro è sto filo qua non mi piace tantissimo avrei provato a nasconderlo in qualche modo o mascherarlo in post produzione per il resto immagine buona qui le luci mi sembrano recuperate correttamente qui si poteva recuperare forse un pelino di più anche qui io credo che non sia stato fatto il bracketing qui perlomeno non c'è riflesso forse questa è stata spenta perché sennò faceva riflesso su questo quadro non lo so è possibile comunque l'avrei fatta sia accesa che spenta in modo da miscelarle poi in post produzione globalmente una bella immagine questa un paio di accorgimenti in più ed era perfetta qui abbiamo un'altra visuale questa mi piace molto qui abbiamo le verticali belle dritte questa mi piace molto finalmente si vede il frigo e il cucinino tavolo e sedie per intero e si vede anche questa poltroncina che è uguale a quella che aveva mia nonna salvo per la trapunta di un altro colore e si vede bene quest'area cantuccio che è molto molto carina caminetto probabilmente ancora utilizzabile nonostante sia chiuso io avrei acceso anche questa l'unica roba io avrei acceso anche questa è più recupero sulle alte luci quindi bracketing a manetta anche in interni andiamo avanti a questa qui un duplicato questa qui è un duplicato e vi dirò di più che cos'è questo che qui non c'era cioè fatemi capire abbiamo fatto due foto uguali però qui sono comparse due copertine perché volevamo far vedere che c'è la copertina per fare la pennica io questo è una cosa mia personale ma io questo non lo farei queste due copertine mi danno un'area un po troppo casereccia un po troppo comoda e anzi sembrano un po buttate lì sembrano dimenticate lì quindi io questa non la consegnerei e consegnerei quella di prima personalmente perché queste mi sembrano proprio buttate lì forse è stata fatta prima questa e poi sono state tolte però questa mi sembrano troppo buttate lì questa io non la consegnerei e signori siamo arrivati alla fine e quindi vi posso dire che questo secondo me globalmente è un buon lavoro è un lavoro vi dico professionale che si può assolutamente consegnare ci sono delle cose che si possono modificare e di cui alcune si potevano modificare in loco come per esempio si poteva fare il bracketing anche in interni per recuperare meglio queste luci si poteva fare più attenzione a accendere tutte le luci negli interni e a fare il doppio scatto accese spente magari anche col flambient quindi introducendo un flash per avere l'illuminazione corretta sulle parti riflettenti si potevano accendere i monitor mettendo magari in evidenza qualcosa mettendo un logo un qualcosa un netflix uno sky un disney plus qualcosa magari c'era qualche abbonamento in casa quindi si poteva mettere in evidenza qualcosa di questo tipo le verticali la maggior parte delle volte mi sono sembrate dritte le foto nella maggior parte dei casi sono assolutamente corrette e assolutamente presentabili le uniche cose che segnalo che secondo me si possono fare meglio è la scelta del punto di messa a fuoco che secondo me deve essere vicino a noi perché anche in questo caso vedete scendo a impallare sempre di più amazon photos adesso se zoom mi crasha quindi non zoom però vi faccio vedere in questa immagine tanto si vede benissimo lo stesso vedete che qui fondamentalmente è a fuoco la lampada secondo me è a fuoco la lampada e quindi a fuoco anche quello che sta dietro quindi il caminetto il che va anche bene però questo libro questo dettaglio del libro che è in primo piano è sfocato questo a me non fa impazzire perché sono convinto che se si fosse messo a fuoco su questo libro sarebbe dal libro indietro sarebbe stato quasi tutto a fuoco quindi mettendo a fuoco qui sarebbe stato a fuoco il libro sarebbe stata a fuoco la poltrona sarebbe stata a fuoco la lampada forse veniva un po' sfocata la chitarrina dietro che è la cosa più lontana però sarebbe stato un dettaglio piccolo e sullo sfondo a essere sfocato invece così abbiamo che la chitarra è perfettamente a fuoco e abbiamo il monitor il camino perfettamente a fuoco che però sono lontani mentre quello che è più vicino è sfocato ecco vedete vedete che crash appena zoom crash si offende molto facilmente il concetto è sempre questo vedete la cosa più vicina è sfocata mentre quello che sta sullo sfondo è perfettamente a fuoco io avrei fatto la scelta opposta perché quello che sta sullo sfondo è piccolo e quindi se fosse stato lievemente sfocato quello che sta sullo sfondo si notava di meno piuttosto che quello che sta in primo piano quello che sta in primo piano è grande si vede subito se è sfocato mentre quello che sta dietro non si notava assolutamente se era lievemente sfocato questa è la prima cosa la seconda cosa io qui credo che sia stato fatto il bracketing per fare la fotografia hdr in esterni ma credo che non sia stato fatto in interni io l'avrei fatto in entrambi i casi mi rendo conto che porta via tempo che porta via spazio e che è una seccatura però io l'avrei fatto anche in interni poi il discorso è non ci pagavano abbastanza per prenderci tutta questa fatica e farlo sia fuori che dentro ci sta però in ottica di dire voglio prendermi dei clienti migliori più grossi eccetera io l'avrei fatto lo stesso perché se noi lo facciamo lo stesso poi abbiamo noi le immagini da metterci a portfolio e ci sta è una cosa buona per noi abbiamo fatto più fatica ma è un investimento non gliel'abbiamo regalate al cliente ce le siamo prese anche noi per portfolio quindi io avrei fatto questo sforzo in più per andare a fare il bracketing anche in interni e recuperare meglio queste lucette in interni con la conseguenza poi che veniva tutto meglio veniva tutto un pochettino più vivido perché quando noi facciamo l'hdr andiamo a rafforzare anche i toni anche i colori non soltanto le luci e le ombre quindi questo sicuramente l'avrei fatto per il resto devo dire che le immagini mi sembrano scattate con criterio comunque con abbastanza competenza sono immagini pulite perché io qui non vedo rumore guardate appena zoom crash si è proprio arrabbiato con me è offesissimo io non vedo rumore quindi sono convinto che siano state scattate con valor iso assolutamente accettabili adesso qui andiamo a vedere una bella panoramica di tutto quanto mi sembra che sì ecco guardate guardate qui abbiamo un indizio hdr è però guarda che roba allora sono hdr anche gli interni sì adesso non me le fa più vedere però allora sono hdr anche gli interni e quindi se sono hdr anche gli interni e niente qui avrei provato a spingere di più con il bracketing avrei provato a fare cinque stop invece di tre perché non erano sufficienti per recuperare oppure avrei provato a aumentare gli step per recuperare più valori tonali perché qui in certi casi non era sufficiente immagino che ci fosse una bella differenza di contrasto si poteva o introdurre un flash per illuminare maggiormente l'interno una cosa che a me non piace fare la maggior parte delle volte però si può fare oppure fare più scatti in bracketing e portarsi a casa più scatti da miscelare in seguito per il resto io devo dire lo shooting mi sembra molto solido le più belle sono chiaramente quelle fuori su quelle fuori trovo che sia stato fatto un lavoro migliore anche perché è più bello il fuori del dentro per il resto è comunque un buon lavoro è un lavoro assolutamente consegnabile a un cliente con l'unica eccezione di quelle due immagini che adesso non mi ricordo più quali sono ce n'era una con degli artefatti e un'altra con le trappunte appoggiate quelle due io le eliminerei però tutte le altre mi sembra un lavoro comunque ben fatto assolutamente consegnabile a un cliente e assolutamente da retribuire perché comunque è fatto secondo me abbastanza bene detto questo io direi che ci rivediamo in studio per le considerazioni finali bene amici rieccoci in studio per le considerazioni finali come avete potuto vedere si tratta fondamentalmente di un bel lavoro ci sono un po di cosine che non è che sono sbagliate sono semplicemente un po di cose che io personalmente avrei cercato di fare in un altro modo posto che come già detto io non sono qui a giudicare non sono qui a dare un voto ma sono qui a dare un consiglio quindi il mio non vuole assolutamente essere un video a senso unico in cui faccio il maestrino faccio semplicemente delle considerazioni partendo dal presupposto che il lavoro è comunque buono ed è assolutamente presentabile e va benissimo così non solo vi dico di più ma in certe circostanze se il cliente non paga la cifra completa o comunque paga poco perché magari è uno dei nostri primi ingaggi è assolutamente plausibile che non stiamo a perdere tutto il tempo che servirebbe per fare le cose come le avrei fatte io io sto parlando del caso in cui il cliente abbia pagato la cifra più alta possibile quindi gli vogliamo fare il lavoro nel migliore dei modi ma esistono tante circostanze in cui il cliente non ha pagato la cifra più alta magari ha pagato poco magari era uno shooting di prova e quindi ci sta che non abbiamo messo in campo proprio il 100 per cento del nostro armamentario perché se il cliente voleva spendere poco anche noi non ci dobbiamo rimettere quindi magari abbiamo lavorato in scioltezza oppure molte cose io posso averle sottovalutate quindi magari quando io dico io avrei fatto un'inquadratura in un'altra maniera magari io non tengo conto del fatto che non c'era lo spazio per farla quindi è possibile che la mia idea sia irrealizzabile ed è possibilissimo che le foto così come le abbiamo viste fossero la scelta migliore possibile è assolutamente plausibile come anche per esempio quando vi dico che io avrei raddrizzato le linee in un altro modo attenzione però perché qui abbiamo a che fare con un'architettura che secondo me non era dritta che abbiamo a che fare con delle case vecchie e quindi secondo me è assolutamente plausibile che fossero un po storte di loro e quindi noi qui dobbiamo fare una scelta possiamo raddrizzare mettere tutto in bolla anche forzatamente oppure possiamo lasciarla un po più naturale e far vedere anche che non è perfettamente dritta proprio per il tipo di ambiente in cui siamo quindi è una scelta secondo me soggettiva a quel punto quindi quello che è stato fatto secondo me va bene a questo punto vi aspetto nei commenti fatemi sapere se questo tipo di format vi piace se volete che lo proseguiamo se c'è qualche altro volontario che vuole inviarmi del materiale qualcuno già c'è che mi ha mandato qualcosa quindi sicuramente questo non è l'ultimo capitolo di questo format però bisogna anche vedere se ha successo oppure no se vi piace oppure no perché se vi interessa lo proseguiamo altrimenti se non vi interessa suggeritemi qualche altro tipo di format in ogni caso vi aspetto nei commenti vi ricordo anche che se mi inviate del materiale volete essere sicuri di non perdervi poi il video dedicato alle vostre immagini io vi consiglio di iscrivervi subito cliccando anche la campanella così non vi perdete neanche un episodio amici è stato un piacere passare un po del mio tempo con voi e io vi do appuntamento al prossimo video ciao